Lo spazio giovani adulti nasce per fornire strumenti per una pianificazione familiare consapevole, informare i cittadini sull'evoluzione della loro fertilità e promuovere stili di vita sani come previsto dalla delibera regionale 1722 del 2017. Il servizio sarà attivo ogni mercoledì dalle 17 alle 18 presso il consultorio familiare dell'ospedale vecchio di Imola con accesso diretto senza impegnativa del medico. Presso l'asla di Imola e presso il consultorio familiare si aprirà questo spazio privilegiato per la fascia d'utenza dai 20 ai 34 anni con particolare riferimento ai bisogni di salute legati alla fertilità maschile e femminile. Questo spazio sarà a libero accesso senza la necessità dell'impegnativa del medico di medicina generale e possono per l'appunto accedere sia le donne che gli uomini che le coppie. Lo spazio sarà gestito da un'ostetrica che accoglierà questa utenza ma all'interno dell'equip ci saranno anche delle psicologhe e delle ginecologhe che ovviamente offriranno a seconda della loro specifica professionalità queste prestazioni legate sia alle visite ostetrico-ginecologiche che alle ecografie ma anche alle consulenze e alle psicoterapie. Sempre in attuazione di questa delibera ci sarà la possibilità per la fascia d'utenza fino a 26 anni di avere la contraccezione gratuita. Naturalmente verrà l'utenza accolta dalla ginecologa e verrà fatto un piano terapeutico e sulla base delle indicazioni del medico verranno offerte dei metodi contracettivi gratuiti a seconda della specificità della situazione. è stato un'attività per l'atmosa. Grazie a tutti